Trattere a circa 70.000 tonnellate all'anno di rifiuti composti dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani con l'aggiunta di sfalce e potature, fanghi industriali e civili, stiamo parlando del più grande impianto di compostaggio della Toscana inaugurato oggi da Acea Ambiente in località Carvoli nel comune di Monte Rotondo Marittimo in provincia di Grosseto alla presenza del presidente della regione toscana Enrico Rossi. La capacità dell'impianto Acea Ambiente già esistente non era più adeguata alle esigenze del territorio. Il nuovo stabilimento, oltre a rispondere a queste esigenze, sfrutta le ultime tecnologie disponibili e ha una vita teorica utile di 20 anni. Il conferimento dei rifiuti inizierà il 14 ottobre. È un bellissimo impianto e secondo me è un impianto che è in linea con le strategie europee e regionali per lo smaltimento dei rifiuti che pongono come obiettivo fondamentale il riuso e il riciclo dei rifiuti. Questo impianto tratterà il più grande impianto di compostaggio della Toscana, è un ricestore anaerobico che tratterà rifiuti di provenienza urbana, la parte umida dei rifiuti, organica, rifiuti da sfalci e da deforestazioni, da interventi sugli alberi e anche rifiuti da fanghi della depurazione. Al termine del ciclo di lavorazione saranno prodotte circa 25.000 tonnellate di ammendanti, fertilizzanti in grado di migliorare le caratteristiche organolettiche dei terreni, oltre ad energia termica e energia elettrica, per alimentare l'impianto stesso con una capacità di circa 6.000 megawattora l'anno. Parliamo di investimenti molto importanti, in questo caso siamo oltre 20 milioni di euro e sono investimenti che la nostra azienda fa con ricorso a capitale interamente privato, quindi è un'attività che non grava sulle casse pubbliche, quindi sulle tasse che gravano i suoi cittadini, ma che si ripaga con gli investimenti attraverso il conferimento di queste frazioni e la loro valorizzazione. È un impianto importante anche perché è assolutamente in linea con la nostra strategia legata all'economia circolare, quindi al recupero, al riciclo dei materiali, al trattamento degli stessi, secondo un iter che ormai stiamo portando avanti da anni e che ci vuole vedere come tra i principali attori a livello nazionale.